Vuoi dire basta al delirio cellulite? Ordina subito il nostro apparecchio anticellulite 360 gradi. Clicca sul link qui sotto nella descrizione. L'apparecchio anticellulite 360 gradi, grazie alla sua avanzata tecnologia e la comodità del suo design portatile, ti permetterà di individuare e agire subito contro la pelle a buccia d'arancia e le zone di accumulo grasso in glutei, addome, braccia e gambe. L'apparecchio anticellulite azione 360 gradi utilizza una nuova tecnologia che unisce massaggio a vibrazione prodotte da 6 anelli di cui è dotato e che ruotano costantemente a 360 gradi. Agisce a livello profondo e produce il collagene prezioso nella rigenerazione dei tessuti. È attivo contro gli accumuli di grassi, riattiva le fasce muscolari. Ordina subito il nostro apparecchio anticellulite 360 gradi. Clicca adesso sul link qui sotto nella descrizione. Grazie a tutti!